Una nuova scossa sismica dopo quella registrata ieri si è verificata a largo della costa Calabra occidentale. Il terremoto ha avuto una magnitudo 3.5 ed è avvenuto nel Martirreno ad una profondità di 176 chilometri. I dati sono stati rilevati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa di terremoto non ha comunque provocato danni. La quarta commissione consigliare a setto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente presieduta dalla consigliere Gianluca Gallo dell'Udc ha proceduto alla revoca e dall'immediata riapprovazione con modifica di un progetto di legge per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico della Calabria d'iniziativa del consigliere Franchino del PD. La commissione inoltre ha incardinato per la discussione di merito rinviando la decisione alla prossima seduta del 18 aprile l'esame di una proposta di legge depositata dal vicepresidente del consiglio Alessandro Nicolò sull'applicazione chiara dei termini temporali della legge sulla casa. L'assessore regionale ai trasporti Luigi Fedele è intervenuto in merito al ripristino del collegamento ferroviario Sibari Metaponto che sarà attivo con due coppie di treni da lunedì prossimo 15 aprile. Si tratta, dichiarato Fedele, di un risultato importante conseguito anche grazie allo spirito di collaborazione e dalla forte sinergia creata con le istituzioni locali e con alcuni consiglieri regionali tra cui Gianluca Gallo e Geppino Caputo al fine di dare risposte concrete ai cittadini. Il ripristino della coppia di treni sulla Sibari Metaponto andrà quindi ad arricchire l'offerta di trasporto sul versante ionico per alleviare il più possibile i disagi dell'utenza calabrese. Esiste in Calabria una serie di strutture sanitarie costruite a cavallo tra il 1990 e il 2000 e rimaste fino ad oggi inutilizzate. E quanto evidenzia il consigliere regionale dell'APD Carlo Guccione che sulla questione ha presentato un'interrogazione al presidente della regione Giuseppe Scopelliti. Tali strutture in base all'ex articolo 20 della legge 67 dell'88, prosegue Guccione, avrebbero dovuto essere adibite a case e famiglia, le RSA, alloggi protetti e comunità terapeutiche. Oramai sono passati più di 15 anni, gran parte di esse, quasi tutte, sono state lasciate in un profondo abbandono. Circa 25.000 passeggeri trasportati dall'aeroporto di Reggio Calabria, un network di 50 aeroporti distribuito in 7 nazioni, una flotta di 14 Boeing 717 e tariffe super convenienti a partire da 19,99 euro a tratta, tasse incluse. Sono questi alcuni dei numeri della compagnia aerea Volotea. Ha appena spento la sua prima candelina nell'aeroporto calabrese, da cui effettua i suoi voli per Venezia e Genova. Il presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale, Aurelio Chizoniti, sarà sentito in qualità di testimone nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sulle assunzioni fatte dal 2010 ad oggi dalla società finanziaria regionale Fincalabra, dopo l'acquisizione degli atti compiuti dai militari della Guardia di Finanza, il sostituto procuratore della Repubblica, Carlo Villani, si è messo subito al lavoro per avere un quadro completo relativo ai bandi e alle assunzioni fatte dalla Fincalabra. I finanzieri stanno spulciando tutti i documenti acquisiti per verificare se ci sono state irregolarità. Villani sta valutando di sentire Chizoniti, che ha presentato una dettagliata denuncia composta da un centinaio di pagine nella quale si chiede di verificare la sussistenza dei reati di truffa, abuso d'ufficio e omissioni in atti d'ufficio. È su una intermediazione da un milione di euro che si sta concentrando l'indagine sui derivati tra un ente locale del Catanzarese e di istituti di credito esteri. Il sostituto procuratore di Catanzaro, Domenico Guarascio, sta compiendo le verifiche per accertare eventuali illeciti nella sottoscrizione dei derivati avvenuta agli inizi degli anni 2000 tra l'ENT e le banche. Si attendono gli esiti delle erogatorie internazionali in Svizzera e da Londra. L'intermediazione da un milione di euro sarebbe stata pagata per un solo derivato che ammonta svariate decine di milioni. Un'operazione finanziaria sottoscritta agli inizi degli anni 2000 è che ora è finita l'attenzione della procura di Catanzaro e della Guardia di Finanza di Milano. E' previsto per il prossimo 16 aprile l'interrogatorio di Carlo Cosco condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio dell'ex compagna Lea Garofalo. I giudici della prima corte d'assise ed appello di Milano hanno infatti accolto la richiesta di esame avanzata dalla difesa dell'imputato che nelle scorse udienze con dichiarazioni spontanee aveva detto in aula mi assumo la responsabilità dell'omicidio di Lea Garofalo. Nel corso dell'udienza di oggi si è concluso il controesame di Carmine Venturino anche lui condannato in primo grado all'ergastolo che nei mesi scorsi dopo la sentenza di primo grado aveva messo a verbale nuovi dettagli sulla modalità dell'omicidio della testimone di giustizia. Due persone delle quali non sono state rese note le generalità sono rimaste feriti in un agguato a schiavonea di Corigliano Calabro le loro condizioni stando a quanto si è appreso non sono gravi a sparare sono stati in quattro subito dopo aver fatto fuochi i responsabili dell'agguato si sono allontanati a bordo di un'auto sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro I carabinieri della compagnia di Bianco e della stazione di Africo nella Locride hanno arrestato il latitante santo Morabito di 50 anni ricercato da oltre un anno per il reato di traffico di sostanze stupefacenti Morabito è stato rintracciato nell'abitazione di alcuni familiari e quando ha visto i carabinieri non ha opposto resistenza il latitante era ricercato nell'ambito di un'operazione compiuta dai carabinieri del ROS Grazie a tutti